Consigliere Pignoli, c'è questa emergenza coronavirus nel Paese, in Abruzzo non ci sono ad oggi contagiati, però si parla di prevenzione e le chiede all'ASL di Pescara quali siano le misure di prevenzione che verranno attuate, che sono già in essere per quanto riguarda soprattutto le visite all'ospedale di Pescara, i degenti ricoverati in alcuni reparti critici. Sì, come diceva lei, fortunatamente ad ORAS non abbiamo casi di coronavirus o di persone contagiate, però come dice un vecchio proverbio, prevenire è sempre meglio che curare. Per cui ho scritto ai due direttori sanitari, al direttore generale facendo funzioni al direttore sanitario e al responsabile dell'unità operativa Giustino Parruti, perché siccome abbiamo visto attraverso i mass media che in Italia i decessi avvengono prevalentemente nei confronti di anziani e di malati oncologici, quindi che hanno delle patologie pregresse, di non dico limitare ma di calmierare la visita dei parenti, dei degenti nei reparti. Penso che già ci sia un protocollo ad hoc, in questo momento bisogna essere un po' più rigidi rispetto alle condizioni tra virgolette normali. I reparti che ho individuato e che poi potrebbero essere stesi o quantomeno tagliati a seconda delle indicazioni che noi ovviamente addette alle istituzioni ci poniamo nei confronti dell'ASL sono ovviamente l'oncologia, la neurochirurgia, la medicina, la geriatria e l'ospice, che ritengo che siano quei reparti ovviamente un po' più sensibili rispetto a questa sintomatologia. Dopodiché ovviamente anche questa mattina ho scritto anche per tutelare i dipendenti comunali e le persone che accedono in comune, anche se devo dire che questa situazione di pericolo che si sta verificando in Italia ha colpito indirettamente anche la nostra città, in causa anche la chiusura delle scuole, Pescara è oggi una città semideserta. E poi una raccomandazione, ci giunge da termo le notizie di in questi periodi anche di difficoltà di sciacalli che si spacciano come addetti dell'ASL per andare praticamente a circuire gli anziani a derubarli nelle case fingendosi praticamente dipendenti dell'ASL per i tamboni. L'ASL non sta mandando nessuna persona, nessun operatore sanitario presso le case dei cittadini di Pescara per fare tamponi o verifica all'interno delle proprie abitazioni. Per cui se ci dovesse essere delle richieste rispetto a queste tematiche da parte dei nostri concittadini di allertare immediatamente le forze dell'ordine, il 112, il 113 o il 117 per quanto riguarda la guardia di finanza e che purtroppo anche in questi momenti ci sono degli stupidi. Ho anche scritto al presidente della commissione igienese d'Italia, il comune di Pescara, per convocare nel più breve tempo possibile il facente funzione manager dell'ASL di Pescara per capire quali provvedimenti si sta prendendo in ordine anche alla tutela del cittadino pescarese e più in generale dell'ASL di Pescara e voi sapete che l'ASL di Pescara conviene anche ovviamente l'ospedale di penne di popoli. Aspettiamo le risultanze, ci leghiamo ovviamente alle decisioni della regione Abruzzo e di pari passo poi ovviamente convocheremo anche noi una commissione per capire sulla nostra città come si sta intervenendo.